Musica Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo ancora su One Piece Pirate Warrior 2 e questa è la conclusione del diario principale Ok, Barbetta arriva da qua Da qua Che c'è tipo tutto il mondo qua Tu morirai Perfetto No, Rabber Corri Arrivo, arrivo, arrivo Barbetta, devi fare da solo Aia No, si doveva uscire da qua, pattume Sto arrivando, Rufy Resisti, Rufy Ma perché sta morendo Rufy poi? C'è, c'è pure Midok qua Spazio, dov'è? Ah, ecco perché sta morendo Rufy Fatto Credevo fosse dall'altra parte a Kainu, non so perché Al pelo ragazzi, l'abbiamo chiamato al pelo Addio Ragazzino di Magma Perfetto Ok, fatto Ora dobbiamo tornare ad aiutare Barba però Questa è mia E me ne vado Ah no, giusto Rufy, Rufy, Rufy Prego, prego Ok, allora Se c'è quella roba Farò un attacco Che pulisce tutta la zona Perché se no muoiono di nuovo sicuro Perfetto 88 Perfetto Mo' ne faccio uno pure di qua Libero un po' tutto Tanto Ci metto un secondo 60 Perfetto Abbiamo fatto 140 kg 10 secondi Perfetto Arrivo Barbetta Fatto Giù le mani dalla mia base Giù le mani dalla mia base Eh ma boa però anche tu eh Barbetta difendi la mia base Vado Tic Cioè ha ucciso tutti Preparma Tic Perfavore Tic Perfavore Questi attacchi che non si sa da dove arrivano Tic Sto per morire No 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 Aspetta 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 Pattume Mollami Moria No Che Aspetta Arrivo Sono qui Eccomi Libera la zona pure qua mo Morite tutti Fatto Ok Oh mio dio Credevo di impazzire ragazzi Questo episodio Ecco lì in mezzo ci siamo noi Proprio nel mezzo Vedete proprio nel mezzo Ci siamo noi Certo Pacano Cami Non c'è Adesso Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E' tutta tua... Mi fa piacere vedere che ti ho fatto le unghie, tipo la ceretta! Vai serpentone! Ok, ora dobbiamo correre da Akainu! No, non ho fatto in tempo a chiamare Rufy, pattone! Vabbè, fa niente! Akainu ti batterò a mani nude! Senza Aki, senza Rufy, senza nulla! Perché io sono un dio elettrico! Il dio elettrico della vita! Attenzione! No, non ho fatto in tempo! E mo' la viene... mo' viene bella! Sì, vabbè! Mi fai fare qualcosa o hai deciso che io non faccio un chezio? Qui c'è qualcuno che muore! Qui c'è qualcuno che muore! No, dai, Ticci, che palle! Ma do che palle, Ticci, con questo attacco! Perché non lo vedi! A differenza di quello di Akainu o di quello degli altri che vedi l'ombra e cade dal cielo Quello non lo vedi, quello lo prendi tutto in faccia e basta C'è A mani nude! E ad elettricità nuda! Brutalmente! Mentre Barba Bianca non fa un cazzo! Brutalmente, perfetto! Potevi anche aiutarmi, Barbetta! Voglio di... Dai, Ticci, apri! Apri, Ticci! Apri, Ticci! Apri, Ticci! Sono pronta, Apri, Ticci! Eccomi, dove sei? Aia! No! Ma non è... No! Mo' finisce la cazzo e ne moriamo, guardate No, che culo, era l'attacco con le pistole Che culo, che culo Che culo, che culo Forza, forza Ener Forza Ener E mi fa piacere vedere che non ti tolgo un grezio Forza Ener di nuovo Forza, forza Forza, forza Forza, forza Mi serve anche Rabber, però Non ho fatto in tempo a chiamarlo mai nella vita Bello vedere che proprio Niente gli ho fatto Però c'è un altro Aki, ottimo Si è caricato di nuovo Questa volta Cioè, stavolta c'è anche Rufy Questa volta Stavolta ti batto Me lo sento Stavo l'ostano Oh, no, 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 no Ma ha tolto metà vita, oh Vai, Rufy Eh, tanto non mi puoi prendere Tanto non mi puoi prendere Piedolinga Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Si, si, si Si C'è un po' Ah, è stato un po' di più. Mi sa che perde un altro dente Ok ragazzi è stato difficile Ho dovuto registrare la puntata tre volte Ci ho messo tre ore a fare sta roba Ma ce l'ho fatta Ok allora siamo a livello 83 Perfetto ragazzi vi lascio alla scena finale Come sempre da Messi91 è tutto Un saluto a tutti vi auguro buona giornata Lasciatemi like, commento, iscrivetevi al canale In descrizione trovate la pagina di Facebook Se vi va passatevi e lasciatemi un mi piace Ciao a tutti ragazzi alla prossima Grazie a tutti 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 Dora gomma Nani o shol Mugiwara o tolare E' 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 E Il momento è meglio, Ruffi! Ruffi? Hihihi! Ci sono molte cose, ma questo è il punto di prima! Siamo arrivati, ragazzi! Non ci sono! Quindi, per andare a fare il volto! E stavo per dimenticarmelo ragazzi, vi chiedo scusa ma sono qui in salvataggio in estremis più che altro. Allora, il prossimo episodio di One Piece Pirate Warrior 2 sarà uno di questi, non mi ricordo più dove eravamo arrivati, perfetto, messi perfetto, hai una memoria e hai 23 anni, quando ne avrai 50, eh, il prossimo diario sarà quello di, sono andato a controllare, quello di Nami ragazzi, quindi iniziate a pensare a quale personaggio andremo ad utilizzare. Questa è la rosa dei personaggi liberi, quindi tutti tranne le due Nami, quindi c'è proprio una scelta infinita. Fatemi sapere lasciando un commento sotto e io giocherò il livello col personaggio che voi scegliete. Un saluto a tutti ragazzi e alla prossima!